Gioca e vinci con noi! Ci siamo liberati delle ansie, delle paure e hai visto la grande prestazione che hanno fatto nel secondo tempo. C'è sempre da migliorare, prima di tutto speriamo che i ragazzi infortunati, che ne ho otto, ritornino tutti a far parte del gruppo e penso che noi se giochiamo col cuore che è tradizione di questa società possiamo arrivare lontani. Sotto il profilo del gioco invece sono molto contento. Sì, prossimo match andiamo a giocare con l'Alto Alvaconche, sappiamo che sarà un match duro, però se i ragazzi tengono questa tensione faremo una buona partita.